Musica Sembrava poter rappresentare una testimonianza importante, per il caso di Denise ma il racconto della coppia romana che aveva detto di aver visto la piccola in un hotel di Mazzara del Vallo non sarebbe veritiero. Avevo fatto anche un video, se non l'avete visto ve lo lascio qui nel pallino di informazioni. Secondo quanto riportato nell'ultima puntata di quarto grado, i due turisti sono infatti indagati per falsa testimonianza. Il legale dei due Stefano Pellegrino ha spiegato così la versione dei coniugi, i quali nel frattempo hanno completamente ritrattato. La moglie in pratica aveva realizzato un ricordo assolutamente non corretto, aveva visto una signora ma ovviamente non si sa in quale albergo. Hanno riscontrato e verificato che in effetti la signora non si trovava quel giorno a Mazzara del Vallo e neanche in Sicilia. Queste sono state le parole della mia assistita. C'è stato questo martellamento mediatico e quindi mi sono lasciata suggestionare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie. 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 Grazie.